Manuel Zlatanov, vice capitano della Nazionale Under 18 maschile. Manuel, partiamo dalla fine. La gioia con i tifosi, la soddisfazione, qualificazione ottenuta ai prossimi campionati europei, 3-0 sulla Grecia, insomma, quello che pensi. Siamo molto felici di aver conquistato questa qualificazione. Era il nostro obiettivo principale, l'abbiamo raggiunto. È stato molto bello, molto bello. La partita, Manuel, è differente da quella di ieri. Ieri è stata abbastanza schiacciante, invece la Grecia oggi si è rivelata essere una buona squadra, vi ha messo anche in difficoltà, però alla fine l'avete spuntata voi. Sì, la Grecia è una squadra che ci ha messo in difficoltà. Noi comunque siamo stati bravi a imporre il nostro gioco. A tratti abbiamo fatto bene, loro ci hanno aggredito di più, ma comunque siamo riusciti a giocare la nostra pallavolo e siamo stati bravi. Manuel, una battuta sul pubblico, insomma. Verso la fine è una grande spinta, vi ha aiutato? Com'è giocare davanti al pubblico di casa? La domanda l'ho fatta la scorsa partita a Gianluca Cremoni, insomma. Molto, molto bello. Giocare in Italia è come avere, diciamo, l'uomo più in campo. Ci dà una grande spinta, poi magari anche nei momenti di difficoltà che sentiamo anche loro che ci spingono, così è molto bello. Grazie Emanuele, in bocca al lupo anche per domani.